Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegna la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, nella puntata di oggi parleremo soprattutto del Recovery Fund che è stato presentato ieri all'Europarlamento e parleremo anche però del lancio rimandato di SpaceX che doveva esserci sempre ieri e del bonus bici perché ci sono un po' di novità da tenere in considerazione. Allora, prima di cominciare, come di giorno vi ricordo che sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo e anche quelle di cui non parlo sostanzialmente le notizie più interessanti della giornata, secondo il mio modesto parere, e che potete segnalarmi altre notizie che vi sembrano interessanti mandarmi feedback, commenti, eccetera, scrivendomi sui commenti su YouTube o su Facebook dove vi parlo. Allora, iniziamo. La notizia principale del giorno è indubbiamente quella del Recovery Fund perché dopo due settimane di discussioni e tentennamenti vari la Commissione Europea ha presentato la sua proposta ufficiale al Parlamento Europeo che era riunito in seduta plenaria proprio ieri. La proposta prevede un fondo di 750 miliardi di euro di cui 500 sono in finanziamenti a fondo perduto e 250 in prestiti. A procurarsi questo credito sarebbe direttamente la Commissione Europea andandosi a indebitare sui mercati finanziari che è una roba del tutto nuova che la Commissione Europea non faceva prima di questa iniziativa e usando come garanzia il bilancio stesso dell'Unione Europea. Questo debito sarebbe un debito a lungo termine da ripagare, che la Commissione Europea si impegna a ripagare nel corso di 30 anni, quindi spalmandolo su 30 anni, attraverso una maggiore contribuzione da parte dei Paesi membri al bilancio europeo, maggiore contribuzione che i Paesi stessi dovrebbero recuperare attraverso delle tassazioni specifiche, che dopo vediamo meglio. Allora, ovviamente ci sarebbero un sacco di cose da dire e la proposta ha suscitato reazioni molto diverse tra loro, alcune molto entusiastiche, altre sicuramente più critiche, ma diciamo che i fattori più interessanti e positivi da notare a mio avviso in questa proposta sono essenzialmente due. Il primo è che l'Unione Europea ha, in un momento di crisi, ha reagito facendo un passo in avanti importante a livello di collaborazione fra Stati e anche di mutualità, solidarietà fra Stati, la potremmo chiamare così, e anche inventandosi una soluzione creativa, perché ha fatto una cosa che fin qui non era mai stata fatta e non si riteneva possibile fare, sostanzialmente. Il secondo è l'idea di far rientrare questo fondo all'interno delle politiche del Green Deal, quindi di tenere assieme gli aiuti economici a una direzione qualitativa verso quale stanno rivolti questi aiuti economici, e quindi non distribuirli a pioggia a tutti, ma distribuirli solo a quelle iniziative che vanno nella direzione di una riconversione ecologica delle economie e della società in generale. Fra l'altro, le tassazioni specifiche a cui facevo riferimento prima, che servirebbero poi ai Paesi membri per restituire alla Commissione Europea questi soldi, insomma all'Unione Europea questi soldi che a loro volta andrebbero a restituire il debito contratto nei confronti dei mercati finanziari, potrebbero essere recuperati sempre nella proposta della Commissione attraverso alcune appunto tassazioni che sarebbero una carbon tax, quindi una tassa sulle emissioni di CO2 in atmosfera, e una plastic tax, quindi una tassa sulla plastica. L'Italia fra l'altro dovrebbe essere il Paese più aiutato dal fondo, perché secondo la proposta attuale gli andrebbero 82 miliardi in sovvenzioni e 91 miliardi in prestiti. Ora ovviamente la proposta appunto dovrà essere negoziata fra i 27 Stati membri e poi approvata in maniera definitiva. Comunque diciamo che l'impianto di base mi sembra interessante, poi però ovviamente ci sono una serie di criticità più specifiche. Ad esempio c'è il WPF che ha diffuso un comunicato, che vi lascio sempre sulla pagina della segnala stampa, in cui muove una serie di critiche molto puntuali e sostiene di fatto che la Commissione non abbia osato abbastanza. Il problema di fondo mi sembra che sia, e che rimane anche in questo tipo di politica, mi sembra che sia il fatto che comunque si mettono molti soldi nel sistema per far ripartire l'economia e si spinge all'azione economica, quindi allo sviluppo di alcuni settori dell'economia, che è comunque una cosa interessante, quindi si spinge sullo sviluppo delle energie rinnovabili, sulla riqualificazione energetica, sul riorientare i consumi e così via. Però questa è solo una parte di ciò di cui abbiamo bisogno per una reale transizione ecologica della nostra società, perché c'è tutta un'altra parte che invece ha a che fare con una sorta di inazione economica, se la vogliamo dire così, ovvero con il non fare, con il fare molto meno, quindi c'è bisogno di consumare meno, di produrre meno rifiuti, fino ad arrivare al momento in cui non ne produrremo più, a far scomparire il concetto di rifiuti sostanzialmente. C'è bisogno di lasciare intere aree del pianeta a loro stesse, fondamentalmente, senza che l'essere umano ci metta piede o mano, in modo che si possano rigenerare gli ecosistemi e la biodiversità. E tutta questa roba qua è una roba che è molto più difficile da fare, che il sistema attuale non riesce a fare, perché non la si riesce a fare con una iniezione di liquidità. Servono altri tipi di politiche e c'è un po' il rischio che se non mettiamo in discussione l'intero paradigma e alcuni dogmi, come quello della crescita economica a tutti i costi, della competizione e così via, e continuiamo a metterli in cima alla lista delle nostre priorità, c'è il rischio appunto che continuiamo a rifare gli stessi errori e continuiamo a costruire un ambientalismo che è più di facciata, ma che non ci porterà veramente verso appunto un mondo, una società ecologica e in equilibrio con gli ecosistemi. Ad ogni modo, non è detto che debba andare così e sicuramente possiamo prendere quello che c'è di buono in questo recovery fund, consapevoli che può essere una misura anche molto interessante, ma che servirà anche molto altro, come ci ne avevamo prima. Va bene, allora, siamo già a sette minuti, vi do appunto giusto un altro po' di notizie prima di chiudere. Il lancio della navicella Crew Dragon di SpaceX, che era previsto ieri sera e ne abbiamo parlato nella puntata, se non sbaglio, di ieri l'altro, o ieri l'altro, sì, martedì mi pare, era previsto per ieri sera ed è stato rimandato per via delle condizioni meteorologiche, che quindi si terrà il 30 maggio, sabato 30 maggio. Altro aggiornamento invece, entro un paio, quel che riguarda invece il bonus bici, entro un paio di settimane, secondo quanto previsto dal decreto rilancio, dovrebbe essere pronto il portale del Ministero dell'Ambiente tramite il quale si potrà ottenere appunto questo bonus di 500 euro, che andrà a coprire fino al 60%, cioè un bonus fino a 500 euro, che andrà a coprire il 60% dei costi dell'acquisto di una bicicletta, una bici elettrica, un Segway, un monopattino elettrico, o comunque diciamo, tutta una serie di di veicoli che consentono una mobilità sostenibile, che erano, insomma, ne abbiamo già parlato un po' di volte, ora non vi sto a spiegare tutto il motivo per cui era stata fatta questa legge. Comunque, il fatto sta che c'è un problema, ovvero che il fondo è di soli 120 milioni di euro, che non sono pochi, però probabilmente non sono sufficienti a coprire tutte le domande, non si sa ancora esattamente, facendo una stima un po' grossolana, potrebbero riuscire a coprire circa 400 mila richieste, per cui si teme che ci sia una sorta di click day, ovvero una giornata quando ci sarà effettivamente il portale online funzionante, o l'applicazione online funzionante, che ci sia la giornata in cui questa cosa viene messa online, in cui tutti si affolleranno per cercare di fare la richiesta e quindi di portarsi a casa il bonus bici, e che in parecchi rimarranno senza, rimarranno scontenti. In realtà vi do questa notizia non solo perché è una notizia interessante, che riguarda un argomento che è sicuramente vista a cuore, ma perché è anche il classico esempio di quella che viene chiamata la tragedia dei beni comuni. So che magari non facciamo il collegamento diretto quando parliamo di un esempio come questo, perché facciamo i beni comuni più, che ne so, all'acqua, all'aria, a questo genere di elementi, ma in realtà è esattamente questa roba qua, perché viviamo in un sistema economico che ci dice che facendo il nostro interesse personale faremo anche il meglio, massimizzeremo anche l'interesse di tutta la comunità, l'interesse collettivo. In realtà spesso non è così e ad esempio in questa situazione l'interesse massimo collettivo sarebbe che le biciclette effettivamente andassero alle persone che le utilizzeranno per sostituire l'uso della macchina per andare ad esempio a lavorare o per spostarsi, perché facendo così ridurremmo tutti complessivamente l'inquinamento atmosferico e vivremo tutti in un ambiente più pulito, più sano, più ecologico, eccetera, eccetera. Solo che appunto l'ideale sarebbe che chi ha già una bici buona e la utilizza già desse la precedenza a chi invece questa bici non ce l'ha e con la nuova bici sostituirebbe la propria vettura, la propria automobile inquinante, eccetera. Solo che spesso è difficile tirarsi indietro se non abbiamo la garanzia che anche gli altri nelle nostre stesse condizioni lo facciano, perché il rischio è che finisce che ci sentiamo un po' dei coglioni, gli unici coglioni che non hanno fatto la domanda per il bene comune e poi alla fine l'hanno fatto tutti gli altri, quindi non abbiamo comunque raggiunto il bene comune e noi non abbiamo la nostra bici. È quel tipo di meccanismo mentale che poi ci porta appunto a non riuscire a tutelare i beni comuni perché non siamo in grado di fare un piccolo passo indietro tutti come individui per garantire un bene alla collettività. Per cui ecco, visto che il pianeta è un bene comune e potremmo, e abbiamo un grande bisogno di iniziare ad allenare questa nostra capacità di fare un passo indietro rispetto alle nostre esigenze per garantire le esigenze della collettività, questo potrebbe essere magari un buon momento per allenare appunto questa nostra capacità. E se ci sentiremo un po' coglioni, pazienza, impareremo anche a sentirci un po' coglioni, ma magari coglioni un po' migliori, non lo so. Va bene, la faccio finita qui con gli sproloqui, io spero che la puntata vi sia piaciuta, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!